Buonasera a tutti e bentornati. Ci vediamo qui per l'ultima puntata stagionale di lunedì sport. La Spal venerdì ha chiuso il suo campionato di Serie B in penultima posizione della classifica con una vittoria contro il Pisa. Una vittoria che purtroppo non smuove la classifica perché la squadra di Massimo Oddo era già matematicamente retrocessa in Serie C la scorsa settimana dopo la sconfitta contro il Parma. Questa sera sono qui con noi proprio per parlare della partita contro il Pisa ma per fare anche un punto della situazione in casa Spal vista la nuova stagione di campionato in Serie C. Riccardo Cervellati ex portiere della Spal. Ciao Riccardo ben ritrovato. Ciao a tutti buonasera telespettatori. Mauro Malaguti del Resto del Carlino. Buonasera. E il nostro opinionista Maurizio Natali. Buonasera anche a te Maurizio. Ciao a tutti buonasera ben trovati. Vi ricordo che per stare in contatto con noi potete sempre scriverci su Whatsapp al 342 017 6235, seguirci sul sito di www.telestense.it o su Facebook sulla pagina di Telestense o Telestense Sport. Alessandro è arrivata questa vittoria, la spalla chiude così quindi il suo campionato purtroppo però non c'era più niente da fare perché matematicamente appunto era già retrocessa nella partita della scorsa settimana. Sì, doppia amarezza visto il successo di Pisa, posso dire la verità, personalmente mi ha interessato poco o nulla. Detto ciò l'amarezza ancora non è passata, a me personalmente senza onga di dubbio ma penso anche a tantissimi appassionati delle cose di casa Spal per cui si archivia una stagione, si cerca di capire cosa potrà accadere in vista dell'inizio del prossimo campionato e delle mosse della società quindi questi saranno i due temi che tratteremo nel corso di questa serata con i nostri ospiti. Il primo interrogativo che vado a loro porre è questo. Secondo voi si poteva far meglio, questa squadra poteva raggiungere la salvezza, poteva disputare un campionato migliore rispetto a quello che invece ha disputato? E a inizio stagione, voi anche solo lontanamente temavate che la squadra potesse finire al penultimo posto? Fatto io? No, assolutamente no. A inizio stagione tutti retenevamo che la squadra fosse una squadra che potesse tentare di giocarsi l'accesso ai playoff. Ecco, questa era un pochino più o meno, credo, l'idea di tutti quanti. È stata una squadra, l'avevamo detto fin dall'inizio, costruita proprio sulla volontà di Venturato, con i giocatori adatti al suo gioco. E quindi, niente, in partenza nessuno poteva certo prevedere questo disastro. Poi dire se si poteva salvare, io penso di sì, o perlomeno arrivare play out, perché le concorrenti con le quali abbiamo avuto a che fare nella parte bassa della classifica, ritengo che non siano più forti della spada. Però dopo intervengono altri fattori, altre situazioni che sono intervenute e hanno portato a questo fallimento. Mauro? Sì, ricordo che noi eravamo tutti abbastanza contenti del mercato estivo. C'era interrogativo sui due centravanti, se fosse possibile farli coesistere, se servisse una punta veloce. C'era un evidente già allora dislivello tra quei 13-14 giocatori principali e la panchina. Bisognava capire Vernier cosa poteva dare in termini fisici, però ministerialmente eravamo tutti abbastanza convinti che la squadra potesse fare un campionato quantomeno tranquillo e magari con un po' di fortuna, anche penso io, si poteva provare ad avere la vista sull'ultimo posto dei play out. Poi abbiamo visto che fino alla quattordicesima, praticamente l'ultima giornata erano ancora in ballo tutti, persino il Modena era in ballo. Quindi devo dire che le aspettative erano altre e sono d'accordo anche io sul fatto che poi sono stati fatti troppi errori in corso d'opera, invece di andare a correggere nei suoi punti deboli questa squadra, che è stata tolta un'identità che alla fine ha avuto probabilmente solo in maniera abbozzata in Bironana nelle prime partite di Venturato. Poi ne ha avuto neanche con De Rossi, però quella era un'identità che a me non convinceva per la Serie B, era un gioco rimasticato che frutta poco, lo puoi fare probabilmente con giocatori più importanti a livello di Serie A, la Serie B quel gioco corto lì non ha vita. Buonissimo. Eravamo seduti qua dopo sei giornate, io di solito mi esprimo all'ottava, tu lo sai, avevo già detto che per i risultati che avevo tenuto e per il gioco che stava facendo con Venturato, non c'era da preoccuparsi minimamente perché la squadra aveva una propria identità, giocava sempre per vincere, sempre per andare dall'altra parte per andare ad attaccare l'area avversaria e che non ci sarebbe stato problema, la mia opinione era questa, per una tranquilla salvezza e anzi col mercato di gennaio introducendo quei famosi tre giocatori che abbiamo sempre detto dalla prima giornata che non sono stati mai presi, il terzino sinistro che sappia fare difendere, il difensore centrale perché gli altri erano tutte scommesse e un mediano incontrista in mezzo al campo, la squadra lo deve fare meglio. L'unico mio dubbio, sono d'accordo con Mauro, è sul doppio centravanti, però siccome la squadra l'ha fatto con Venturato, i gol Moncini li ha fatti con Venturato, quindi abbiamo dato, io anch'io ho dato fiducia a Venturato perché dice se ha voluto Moncini nonostante la Mantia, invece poi dopo in corso d'opera è chiaro che si poteva fare meglio, fare un mercato decente, facendo un mercato decente a gennaio, io penso che si potesse fare molto meglio, ma di salvarsi, non di arrivare ai play-out. Il Cittadella ha cambiato sette giocatori, non ha preso dei giocatori che non funzionano, non sono funzionali. Il Cosenza ha cambiato mezza squadra, anche il Cosenza, pur non prendendo nessun nome. Ha preso Zarate che si è fatto male subito. E quindi cambiando quei giocatori che non erano funzionali all'allenatore del momento che era De Rossi, cambiarli, anche come cambiare, cioè non va bene il terzino sinistro qui, lo cambio, c'era stata fatta una proposta, no? Trippaldelli per il terzino sinistro. No, no, Maurizio ti fermo perché quella, in realtà, lo scambio Trippaldelli-Fulon era così solo nei sogni, perché quando è stato il momento di stringere, di stringere nulla si è potuto fare, perché da quello che sappiamo noi, potremmo essere smentiti, era Trippaldelli che sperava di andare a Benevento, ma quando la spalla ha detto va bene, però in cambio ci date Fulon, tutto è tramontato. Io ho citato un esempio, no? Sì, adesso non è mai diventata molto concreta come trattativa. Ho citato un esempio perché per me i terzini sinistri sono stati uno dei punti deboli, non di questo campionato, degli ultimi due campionati, perché in fase di un possesso e in fase difensiva anche sull'uno contro uno hanno sempre avuto lacune che non hanno mai colmato. E poi cambiare i giocatori per cambiare, non è vero tanto per cambiare, giocatori depressi qui non te ne fai niente, giocatori che non giocano non te ne fai niente, meglio degli altri, ma al che vada fanno come questi, peggio non fanno, non è che facessimo, eravamo penultimi a dicembre, ci ha dimenticato qualcuno. Quindi io avrei cambiato per cambiare, per quel poco che ho fatto quando mi sono trovato così nelle situazioni in cui ho lavorato, in altre squadre, in altre categorie, ho cambiato anche solo per cambiare, perché è vero che a gennaio è difficile andare a trovare il giocatore giusto nel posto giusto, però tante volte cambi via, togli via, porti una ventata di novità, gente che abbia voglia, gioca poco da una parte, qui magari gioca sempre, ha un po' di voglia, poi con questo non è detto che fosse la soluzione migliore. Guarda come ha capovolto la situazione Riccardo in Venezia. Io la capovolgevo tutto. Ma capovolto, perché a parte Venezia, l'avevo detto credo un mese fa qua. Parliamo del mercato, di tutto ciò che... Io l'ho detto, quando ho visto, è già decima volta che lo ripeto, quando ho visto il Venezia qua a farla... Ti ho dato l'assist, dammene atto. No, ti do atto, infatti è andato ai play-off. No, quando ho visto Spal Venezia, qual è andata? Per me il Venezia mi aveva dimostrato di essere una squadra forte. Poi nel primo tempo aveva sbagliato due o tre gol davanti alla porta e il secondo tempo la partita è girata. Però la qualità dei giocatori, la forza dei giocatori, l'intensità, gli strappi che avevano quei giocatori del Venezia, la Spal non li ha mai avuti. Non ha giocatori di quella forza lì. Poi nel giorno di torno ha trovato anche il capocannoniere, l'observo capocannoniere del campionato, l'islandese. E quindi alla fine il Venezia è venuto fuori. Ci sono altre squadre, secondo me, su cui si doveva fare la corsa. Alla fine sono stati il Perugia, il Benevento è stata una sorpresa in negativo. E poi c'è stato qualcuno che è riuscito a salvarsi e secondo me è una squadra più o meno all'altezza della Spal, quale può essere il Modena, a mio parere, e l'Ascoli stesso. Non mi sembrano squadre nettamente superiori alla nostra squadra. È che lì invece hanno mantenuto una linea e anche nei momenti di difficoltà si è andati avanti abbastanza compatti e poi alla fine sono venute fuori queste squadre. C'è una cosa anche da aggiungere. Di tutti questi allenatori cambiati, me l'ha fatto venire in mente Riccardo adesso citando la partita col Venezia. Il più fortunato dei tre era venturato, perché col Venezia non si doveva vincere. Qualcuno ha sbagliato un rigore, col Cagli ha sbagliato un rigore, se non sbaglio. Maurizio ti ricordo le vittorie di Parma e di Reggio Calabria, per parlare di buona sorte. Sono state fortunate anche queste, certamente, dopo brutte partite. Invece là comunque la partita l'hai giocata, poi le partite la Spal comunque le giocava, tranne dopo la sosta, quello che è successo con Genova e Frosinone. Non ha giocato più la Spal. Mauro, a tuo giudizio quali sono stati gli errori che hanno finito con l'incidere in modo determinante su questa disgraziata stagione? Secondo me gli errori, quando si traccede, sono sempre di tutte le componenti, però principalmente ci sono due ordini di errori, quello in capo alla società e quello in capo ai giocatori, perché gli errori della società penso che siano evidenti. Il venturato è stato mandato via dopo che aveva perso con le due che sono andate in Serie A, di cui una già allora si capiva il Genova che ci sarebbe andata, l'altra il Frosinone era sulla buona strada. È vero che secondo me a Frosinone ha sbagliato veramente tutto, cominciato la marcatura di caso e tutto quanto venturato, però insomma erano due sconfitte che ci potevano stare, io non l'avrei mandato via quel punto. È stato un errore prendere De Rossi non sapendo che tipo di calcio voleva fare, cioè un calcio proprio all'opposto di quello di venturato, però con i giocatori che aveva voluto venturato, che erano fatti per il suo gioco, non per un gioco palleggiato. Infatti la Spala ha fatto quattro risultati utili con De Rossi, il 5-0, il 4-0, il 3 pareggi, finché praticamente ha cambiato poco e niente. Quando lui ha cominciato ad andare a lavorarci, sono venute fuori le magagne. Poi l'esonero di De Rossi era inevitabile a quel punto, però chiamare Oddo e subito dopo mandare via Lupo, dopo averlo difeso contro De Rossi, anche lì c'era stato un cortocircuito fra allenatore e direttore sportivo, insomma penso che l'allenatore avrebbe avuto maggiore autorità se avesse avuto al suo fianco il direttore sportivo. Poi c'era Ortoli, che era un altro pescarese che Oddo conosce, ma insomma non ce l'hanno nemmeno presentato, mi è sembrato proprio che fosse una figura ponte, perché noi non l'abbiamo nemmeno conosciuto, nemmeno fatto la presentazione quando hanno fatto il cambio con Lupo. Questo riguarda la società e naturalmente il mercato di gennaio che è stato fatto un po' per De Rossi nella situazione di Nangolang, un po' pensando che comunque la Mantia alla fine i suoi goli avrebbe fatto e quindi lo si è tenuto, che De Rossi non lo voleva, poi è stato mandato via De Rossi e è arrivato Oddo con un mercato che era stato fatto a metà per De Rossi. Proprio ci sono i giocatori, è una componente molto importante secondo me quella dei giocatori, perché ci sono dei giocatori che quest'anno hanno fatto un campionato che rispetto alle loro abitudini, ai loro numeri, alle loro cifre, alla loro storia di Serie B è stato in certi casi vergognoso, in altri casi deludente e voglio sapere secondo voi quale giocatore, secondo noi abbiamo qui due addetti ai lavori, quale giocatore quest'anno si è espresso in condizioni indecenti per quelle che sono le sue qualità, secondo me Maestro che è sempre stato un po' discontinuo però le qualità ce l'ha, Nangolang quando è venuto rispetto alla condizione che aveva ha fatto il possibile, un po' Meccariello ma tutti gli altri, la Mantia è stata la delusione principale, tant'è che alla fine bisogna dare ragione a De Rossi, l'ha fatto bene a lasciarlo fuori, è meglio Moncini vivo che un la Mantia nelle condizioni in cui si è presentato, tant'è che Moncini alla fine, bene o male, con i tre rigori finali, è arrivato a nove gol, la Mantia ne ha fatto uno più di Celia, il terzino sinistro che a noi non andava bene perché non sapeva difendere, almeno ha fatto quattro gol, almeno quello, la Mantia ne ha fatti quattro nelle prime cinque partite e uno nelle altre 33, la Mantia era uno da 11 gol, in Serie Bilo è sempre stato, direi però al di là di questi nomi altri, poi ci sono state anche situazioni indipendenti perché per esempio Varsania era fondamentale perché era l'unico che aveva una certa potenza, un certo passo lì, l'hai perso, buonanotte, quindi quando poi piove, piove sempre forte. Poi leggeremo anche dopo le nostre pagelle la situazione sui singoli, vorrei sentire sia Maurizio che Riccardo in merito a quella che era la loro opinione sugli errori principali che sono stati commessi nel corso di questa stagione. Io non mi sono messo d'accordo con Malaguti ma se io muovevo la bocca e parlavo a Mauro era uguale, è uguale, sono perfettamente d'accordo su troppo presto via avventurato, prendi un allenatore che non sai, non conosci, non sai come ha lavorato, ma hai lavorato come fai a sapere come lavori? C'è stato qualche episodio in negativo che può aver inciso più di un altro? Io penso che dopo tutti gli errori l'ultimo finale, quello di mandare via il direttore sportivo sia stato l'errore più grande. Alla fine ha preso finalmente un allenatore che conosce, che sa chi è, aggiungo ad arrivare che parlano lo stesso dialetto se vogliono, non lo fanno mai perché parlano benissimo in italiano. Quindi l'ultimo errore definitivo perché non c'è più mercato, non c'è più niente, mandi via il direttore sportivo che è quello che ha preso tutti i giocatori, è quello che ha preso l'allenatore e ha preso l'allenatore in funzione parlando con l'allenatore, guarda io ho questa squadra qua, ci sono questi giocatori qua, te la senti, non te la senti, ce la venire a Ferrara, con un contratto al 30 giugno, neanche ha fatto un biennale o un triennale, quindi dopo che si sono messi d'accordo tre giorni dopo mi mandi via il direttore sportivo, cioè dimmi te anche Oddo con chi si la porta, che ha avuto, i giocatori che sono stati presi tutti da Gallo, che li poteva, adesso io parlo di La Mantia, da lupo, da Fabio, non so perché ho detto Gallo, perché c'è anche Fabio Gallo, ce n'è un altro che si chiama Fabio Gallo, si chiama Fabio Gallo, ce n'è un altro, Cervelati lo sa, allora La Mantia, bacchettato, d'avventurato, perché ha fatto più gol che partite a momenti, bacchettato da De Rossi, se non riesce a bacchettare l'odio, l'unico che lo può bacchettare è quello che l'ha preso, è quello che l'ha portato a Ferrara, che l'ha convinto a venire qua, no? Cioè, e tu mi mandi via anche questo, cioè, per me l'errore, l'errore di svolta è mandare via il direttore sportivo, che era l'unico punto che era rimasto di tutto questo trabusto, perché purtroppo il presidente ha un lavoro diverso, abita in un altro posto, quindi la figura vera di riferimento doveva essere lui, ma è andato via quando ancora si poteva recuperare tutto, come dice Riccardo, se non salvezza diretta, quantomeno play out. Secondo me rimane di fondo un fatto che nel calcio la stabilità è un valore, nel calcio la stabilità è un valore e nel calcio gli sballottamenti continui portano a questo. Allora Ottivini, per meglio dire, Massimo Oddo si viene a ritrovare in una situazione assai delicata, dopo un paio di settimane viene a perdere quello che era stato, doveva essere il punto di riferimento della società, visto che il presidente nulla deve cepire alla sua attività e quindi può essere raramente qui a Ferrara, quindi Oddo si è trovato in un certo momento a dover affrontare tutte le problematiche di espogliatorio da solo, oltretutto è arrivato in un ambiente che per lui era semi-sconosciuto, per non dire totalmente sconosciuto, cioè si è trovato senza il benché minimo appoggio alle spalle, oltretutto con un gruppo che aveva lavorato con De Rossi, che aveva un metodo proprio di gestione opposto a quello di Venturato, perché tanto lo sappiamo, ha inciso, Mauro Covalesini se sbaglio, non poco anche la mancanza di feeling tra i giocatori e l'ex allenatore della Cittadella, anche questo ha inciso nella decisione che è stata quasi totalmente di Tacopina, perlomeno Tacopina è quello che poi ha deciso di prendere De Rossi piuttosto che Oddo, piuttosto che chiunque altro in quel momento. Scusa, ho letto un'intervista di Lupo, mi pare che sia totalmente di Tacopina la decisione di mandare via Venturato, se uno legge quell'intervista dice abbiamo un progetto, qualcuno non l'ha seguito, credo non sia stato Lupo, chi è che può? Io penso invece che, sono un po' di parere diverso, che tutte queste siano state conseguenze di una partenza che mi ha convinto sempre poco, perché quest'estate quando si è deciso di tenere Venturato non mi sembrava che ci fosse questa grandissima convinzione. Ma allora perché fai la squadra? Perché tu hai fatto la squadra a usato. No, ma è questo che ti sto dicendo, stiamo dicendo di Oddo, De Rossi, dei Cambi, ma lì siamo partiti male, perché Venturato l'avevi già avuto, quindi se stava simpatico o meno ai giocatori lo si sapeva, perché i giocatori poi dopo non è che ne arrivano altri dieci, diventa simpatico con tutti. quindi che fosse accettato o no, i suoi metodi di lavoro si conoscevano, c'era il contratto di mezzo, c'era il contratto di mezzo e per un bel periodo, mi sembra un paio di mesi, nessuno sapeva se Venturato o meno sarebbe rimasto allenatore della SPAR, poi si è deciso su questo, quindi non mi sembra che ci fosse tutta questa certezza, sicurezza e convinzione in questa conferma. Ecco, e questo è stato il punto secondo me sbagliato in iniziale, in più li costruisci la squadra, come stavi dicendo tu Sandro, proprio per lui, cioè con dei giocatori adatti solamente al suo modulo, arriva un altro allenatore, non sa da che parte prendere la squadra, perché non hai esterni attacco, lo diciamo da agosto, non è che lo diciamo da gennaio, non hai una mezzala con veramente il cambio di passo, non hai giocatori che facciano il calcio anche di Venturato, quel calcio fatto di, qualunque altro allenatore che arriva, il calcio di oggi in Serie B, cioè giocatori di forza che saltino l'uomo, che facciano questi cost to cost, ormai io vedo giocare solamente in questa maniera qua in tutte le categorie, chi va, chi ha sprint, chi tiene, gioca pallone oggi come oggi, chi non ha questa velocità, questa forza fa una grande fatica, e secondo me la squadra aveva dei limiti in questo senso, da lì dopo è stata una catena di contraddizioni, di cose fatte un pochino così, una volta decido io, una volta decidi te, mentre in altri club queste cose non accadono, perlomeno dove accadono molto spesso ci si trova in fondo alla classifica, guardiamo la Ternana che ha rischiato, guardiamo il Benevento che ha combinato, guardiamo anche queste altre, guardiamo il Brescia con il potenziale di squadra che ha a mio parere, dove si trova oggi, cioè alla fine queste cose si pagano. Diciamo che ci sono tante situazioni particolari, due presidenti per non dire tre, perché mettiamoci Bandecchi, mettiamo Ciccellino, poi ci dobbiamo mettere la Chietacopina, perché molte delle sue decisioni hanno influito, secondo me… Il presidente che vuole intervenire, bene o male, cioè vuole intervenire, quindi è una logica aziendale anche quella. Ma secondo me lui ha capito, perché se si va avanti, adesso dopo ne parleremo, io ho capito che quest'anno lui farà un passo indietro e sarà un direttore sportivo che… Ma ce lo curiamo tutti, penso che dagli errori… L'ha capito, l'ha capito, l'ha capito. Cambino, cambino strategie… Purtroppo l'ha capito dopo che lo spavano… Ma tu, secondo te sei così convinto che Ciccopina non cambi pelle? Ma io sono convinto che si sia scottato abbastanza quest'anno per potersi tenere a freno, poi sai, la natura di ciascuno di noi può venire fuori sempre, però credo che si sia bruciato parecchio quest'anno, anche come reputazione per questi tifosi, per cui io credo che l'anno prossimo Cicopina cercherà di puntare sull'organizzazione, gli investimenti, ma ci guarderà abbastanza dall'aspetto tecnico. Poi è chiaro che sei comunque il Presidente, se una squadra perde quattro partite di fila potrai esprimere il tuo parere, però… La mia speranza è che lui si affidi, ma credo, me l'ha detto, l'ultima conferenza stampa che ha fatto, l'ha detto, vuole un referente tecnico che si prenda la responsabilità di tutta la parte tecnica, quindi ci mettiamo anche la scelta degli allenatori, perché secondo me, così, e su molta gente si chiede, ma fin dove è colpa di Cicopina, fin dove è sbagliato Lupo? In grosso modo la scelta degli allenatori e del direttore sportivo era di competenza di Cicopina, fino a Oddo, l'ha scelto Lupo, mentre la scelta dei giocatori era di Lupo, per cui Cicopina dei giocatori non ha messo l'aventurato, perché alla fine Lupo ha scelto insieme… Di Lupo insieme, certo, scusa, non del Presidente, ma della componente tecnica. Intanto si sta chiedendo il primo tempo di Empoli-Juventus, dove l'Empoli sta vincendo 2-0, partita valida per la 36esima giornata di Siria. Sì, purtroppo dovremmo dare uno sguardo anche ai play-off della Serie C, perché questa sera si stanno giocando le gare di ritorno. Dovremmo abituare, dovresti già dare tutti i primi tempi della Cina, per vedere chi rimane a competere con la Spaule. Anche i play-off della Serie D, per vedere chi sale in Serie C. Ecco, siamo all'intervallo su tutti i campi, se non in un paio dove si stanno giocando i minuti di recupero del primo tempo. Lentella è in vantaggio 2-0 sul Gubbio, 0-0 tra Foggia e Odace e Cerignola. 0-0 anche tra Vicenza e Cerignola. L'Ancona è in vantaggio a Lecco, 1-0, mentre sono solo 1-1 Pescara e Virtus Verona. Questo dimostra la difficoltà di questo campionato. Cioè, il Foggia ha preso 4 gol e Cerignola, quindi vuol dire che oggi come oggi esce il Foggia. Il Pescara comunque gioca contro la Virtus Verona, che noi, qualcuno manco la conosce. Vicenza con la Pro Sesto. Vicenza rischia di andare fuori con la Pro Sesto, quindi non è perché ci chiameremo Spaule che avremo i tappeti rossi. Lo conosciamo, abbiamo fatto una trentina di anni. Ecco, quindi bisogna preparare il palazzo e il fattore. Lo ricordiamo tutto, dal posto Ruvaro, tutto il resto. Sarà 4 posti in tutto al cospetto di 60 squadre che partecipano nei tre gironi. Adesso andiamo in pubblicità tra pochissimo. Bentornati. Prima di proiettarci sul futuro di Casa Spalla, andiamo a vedere le pagelle stagionali per fare un po' la sintesi di quello che è successo in questo campionato. Alfonso, 6 e mezzo. Se la Spalla non ha archiviato le speranze e salvezza fino a un paio di settimane fa, molti dei meriti vanno attribuiti al suo portiere. Le vittorie di Parma e Reggio Calabria portano in presso il suo marchio. Senza quei sei punti, la retrocessione sarebbe stata cosa fatta almeno da un paio di mesi. Brasau, 5. Una ventina di minuti a Genova, battuto tre volte e non senza responsabilità. Dopo il lungo stop per infortunio, evidentemente non era pronto per un rientro, oltretutto in un momento tanto delicato. Tiam, 5 e mezzo. Due presenze condizionate dalla poca tranquillità. Gli può aver fatto bene l'esperienza a Poggia in Serie C, utile per il suo possibile ritorno a Ferrara, dove potrebbe trovare un posto da titolare. Pomini, 6. Tre di apparizioni e prove sempre all'altezza. Professionista esemplare, non a caso a 42 anni, nel momento del bisogno si è fatto trovare pronto. Da come è rimasto appoggiato al palo dopo la gara di Pisa, quella all'Arena Garibaldi, potrebbe essere stata la sua ultima partita di una carriera che dovrebbe essere un esempio da seguire per tanti giovani dentro e fuori dal campo. Almici, 5. Cinque spezzoni per un totale di 80 minuti, una presenza utile forse solo per le partitelle in famiglia. Di certo ha svolto questo compito accettando il ruolo di terza linea senza creare problemi. Arena, 5 e mezzo. Ha dovuto fare i conti con un paio di infortuni che gli hanno tolto la continuità necessaria per affrontare in serenità il debutto in categoria potrebbe essere utile in un campionato meno impegnativo rispetto alla cadetteria. Celia, 5 e mezzo. Si è dimostrato giocatore che in rosa, in una squadra di Serie B, che non ha grandi ambizioni, ci può stare. La conferma arriva dalle quattro reti realizzate. In Serie C potrebbe dire la sua. C'è sempre da considerare che in Italia i mancini non abbondano. Dalle Mura, 6. Doveva essere un rincalzo per dare il cambio ai compagni infortunati o squalificati. Alla fine si è avvicinato alle 30 presenze. Considerato che avrebbe dovuto fungere solo da alternativa, si può dire che ha rispettato le attese. Dickman, 5 e mezzo. Buon avvio di stagione, poi calo costante fino al crollo finale. Non si può negare che ci si aspettasse di meglio. Fiordaliso, 5, innesto inutile. Se tutti gli allenatori che si sono succeduti sulla panchina bianco-azzurra lo hanno utilizzato poco o nulla, significa che il giocatore non ha dimostrato di poter costituire una valida alternativa al capitano. Meccariello, 6 e mezzo. Il migliore del reparto arretrato. L'unico che si è confermato essere giocatore di categoria. Sarebbe opportuno inserirlo nella spina dorsale della SPAL chiamata a tentare l'immediata risalita. Peda, 5 e mezzo. Finito nel dimenticatoio dopo un discreto avvio. Pagate a caro prezzo le due espulsioni con Cagliari e Benevento. Per dare il meglio deve giocare nella difesa con tre centrali. Appena compiuto 21 anni, un anno in Serie C gli potrebbe essere utile, ma non sarebbe da condannare la società. qualora ricevesse offerte importanti e optasse per una sua cessione. Tripaldelli, 5. Altra stagione opaca. Il ragazzo parrà avere discreti mezzi, ma quando vai a tirar le somme ti rendi conto che troppo spesso si ritrova a fare i conti con amnesie difensive e manca di precisione quando è chiamato a servire i compagni in zona gol. Varnier, 6. Scommessa persa, di sicuro non per le sue responsabilità. La società confidava in un suo recupero dopo la serie di infortuni delle precedenti stagioni, ma il Calvario è proseguito anche a Ferrara. Alla fine poco più di una decina di presenze, sostituzioni comprese. Peccato perché come mezzi tecnici e fisici si vede che di stoffa ne ha da vendere, tanto da spiegarsi perché lo ha voluto l'Atalanta. Contigliano, 7. Fino a quando Odo lo getta nella mischia a Bolzano, lo conoscono solo quelli che seguono le gare delle giovanili. Poi si impone con un piglio e determinazione da veterano. 19 anni ad agosto, nato con la spal nel cuore, la nota più lieta di questa disgraziata stagione. Esposito, 6. Ci si aspettava qualcosa di meglio. Inconfutabile però che la sua partenza, arrivata per sua volontà, volentieri assecondata dalla società per far cassa, ha tolto qualcosa alla competitività della Rosa. Maestro, 6. Qualche lampo, anche due gol, ma ridotta a continuità. Scusanti, spesso spostato di ruolo e un infortunio con cui ha dovuto convivere praticamente da inizio a fine stagione che lo ha costretto ad allenamenti parziali e non gli hanno quasi mai consentito di contare sul top della condizione atletica. Murgia, 5. Ancora una stagione dove il ragazzo si è ritrovato svuotato di energie mentali e fisiche per cui ha finito per garantire un apporto praticamente nullo. Nainggolan, 6. Sul piano tecnico, una delizia. Nulla da rimproverargli, nemmeno su quello professionale. Però altra scommessa persa. Tutti sapevano che il rischio infortuni era dietro l'angolo e alla fine i suoi muscoli hanno fatto cracco un paio di volte e la spal si è ritrovata nel momento decisivo senza l'unico elemento in grado di fare la differenza a 360 gradi. Prati 7. Partito esposito, si è visto affidare il compito di fungere da principale punto di riferimento per tutta la costruzione della manovra. è andato ben oltre le attese per un ragazzo poco più che ventenne al debutto in Serie B. Potrebbe essere un cardine della prossima spalma. È difficile ipotizzare che la società possa rinunciare alle richieste che sembrano già essere pervenute per l'Azzurrino che avrà un'ulteriore possibilità di mettersi in vetrina nei mondiali under 20 dove con il gol messo a segno al Brasile meglio non poteva iniziare la sua avventura oltreoceano. Proia 5. In seguito già dalla scorsa stagione è arrivato con la benedizione di Venturato. Non si è mai visto il giocatore tanto ammirato con la maglia del Cittadella. Va detto che ha dovuto fare i conti con un problema fisico che probabilmente ha finito con l'incidere sul rendimento molto, molto al di sotto delle aspettative. Tunjov 5. Ha avuto più opportunità per mettere a frutto la sua fisicità e quella sinistro che molti gli invidiano. Occasioni però gettate al vento. Parso anche privo della determinazione di chi vuole ricavarsi uno spazio nel calcio che conta. Valsania 6. Lo si è rimpianto soprattutto dopo l'importunio di Genova che lo ha tolto di mezzo praticamente per tutto il girone di ritorno. La sua capacità di ricoprire più ruoli, la sua esperienza e la sua personalità avrebbero potuto avere un peso importante nella fase decisiva della stagione ancor più se si considera la cessione di esposito. Zanellato 5. Un continuo, inarrestabile e inconcepibile calo. Il principale problema del ragazzo pare essere caratteriale ma per un motivo o per l'altro la sua è risultata una stagione tutta da dimenticare. Zucculini 5 e mezzo poco più di una trentina di minuti in totale aveva il contratto anche per la grande amicizia con Tacopina che non poteva accantonarlo ma i tanti guai fisici a partire dalle ginocchia distrutte da mille battaglie hanno fatto sì che la sua presenza sia risultata utile solo per tentare di smussare i tanti spigoli dello spogliatoio. Fetfazzidis 5. Acquisto inutile aveva illuso al debutto finale di Cagliari e con il gol al Cittadella ma poi è finito nell'obbligo. Finotto 5 e mezzo doveva essere un'alternativa ai titolarissimi inamovibili e quel minimo contributo che gli veniva chiesto e ci si aspettava potesse garantire ha finito con il garantirlo. L'amantia 5. Dispiace affermarlo ma è stata la più grande delusione dell'annata. Gli si può concedere l'attuante per come De Rossi ha deciso di relegarlo a un ruolo di comprimario ma da un giocatore ultra trentenne e con i suoi trascorsi era doveroso attendersi una reazione specie dopo l'arrivo di Otto. Moncini 6. Alla fine una stiracchiata a sufficienza se l'è anche guadagnata anche per sottolineare come nel gruppo di attaccanti è risultato il meno in ombra e con nove gol il più prolifico. Rabi 5.5 Doveva essere un comprimario e così si è rivelato. In C potrà anche essere elemento utile in rosa a patto che se si vuole parlare di programmi ambiziosi arrivino due attaccanti di spessore. Rauti 5 non ci si aspettava molto viste le sue precedenti annate che se accompagnate a quelle in biancazzurra hanno confermato che la Serie B è un campionato che richiede altre qualità. Rossi 5.5 vale il discorso fatto per Zuculini che però era legato contrattualmente alla SPAL l'ex Viola non aveva invece vincoli con la società di Tacopina che forse poteva riservare quel gruzzolo per investimenti su giocatori meno logori. Dispiace per l'uomo ma purtroppo contro cartelle cliniche e carte d'identità è inutile lottare. Come avete potuto sentire sono stati assegnati i voti e i giudizi a ogni singolo giocatore della Rosa non abbiamo però parlato degli allenatori si sono sosseguiti appunto tre allenatori Venturato De Rossi Oddo voi che voto dareste ad ognuno di questi tre? A mio parere nessuno forse Oddo è che raggiunge la sufficienza che si è trovato veramente in una situazione complicatissima in una situazione in cui non è che puoi lavorare tanto costruire fare invece per quanto riguarda sia Venturato che De Rossi non posso pensare di dargli una sufficienza perché comunque la squadra anche con Venturato non è che avesse espresso nelle prime giornate granché De Rossi secondo me era partito bene come dice anche Mauro dopo si è un po' perso nei suoi viaggi un po' d'allenatore si vede che proprio manca esperienza ha cominciato a spostare destra e sinistra cambi di modulo cambi di giocatori e lì perdi la tramontana e dopo non sai più come fare credo che De Rossi l'allenatore lo potrà fare però oggi come oggi ha dimostrato ancora purtroppo qualche difetto ma Mauro cosa ne pensi? al di là dei voti vorrei ricordare una cosa cerco di rifarmi al momento in cui gli allenatori sono stati mandati via Venturato noi ce la dimentichiamo perché è stato il primo è passato molto tempo Venturato la squadra aveva l'identità che lui è solito dare alle sue squadre ma il problema grosso di Venturato al di là dell'errore di Frosinone era stato tre gol presi con la regina tre a Como due col Geno due col Frosinone due a Bari lì era il problema di Venturato perché la squadra era fatta per lui ma stava prendendo perché adesso ce l'ho dimenticato ho riarrotolato la memoria il problema di Venturato in quel momento lì che prendevamo una caterva di gol questo è stato secondo me alla base di un ragionamento che probabilmente parte anzi sicuramente parte dalla mancata convinzione sulla conferma ma poi più che sul gioco sul modulo eccetera era che la spalla era spalancata prendeva gol più non possa ne faceva anche più di quanti secondo me non aveva giocatori adatti al suo modulo a Cittadella la difesa era sempre una dei migliori a Cittadella di Venturato non è che fosse un allenatore che alla fine esprimesse chissà cosa con tantissimi gol è questo che non capisco per me ripeto quello che ho detto prima secondo me si è costruita una squadra per il suo modulo ma con dei giocatori inadatti al calcio di oggi tu avevi un giocatore affidabile nel reparto arretrato che era Beccariello poi il discorso finiva perché il giocatore migliore in assoluto per qualità tecniche anche atletiche che è Varnier sappiamo alla fine al tirare delle somme la scommessa è stata abbondantemente persa ma questo tutti lo dicevamo sfido chiunque Mauro Rebonti stimone a dire che non aveva posto questo interrogativo agli addetti ai lavori di spalla perché tutti avevamo detto attenzione perché Varnier c'è il grandissimo timore non si è in grado di disputare un campionato garantendo almeno una trentina di presenze alle sue spalle c'erano i Dallemura c'erano i Peda c'erano degli altri rincalzi Arena e qui Arena altri giocatori che arrivava dalla serie C senza mai visto la serie B a gennaio sappiamo benissimo che Lupo aveva quasi imposto a De Rossi l'ingaggio di un giocatore con determinate caratteristiche dopo l'esperienza del girone di andata De Rossi non l'ha voluto questo lo sappiamo tutti per certo questo è stato il problema della difesa secondo voi con un difensore diciamo all'altezza di Meccariello i problemi erano risolti secondo me no perché per me il problema è una metà campo di un certo indifeso Riccardo parzialmente risolti perché se tu alla fine mi fossi ritrovato con 3-4 punti giù i conti sarebbero tornati i giocatori migliori sono stati espositi e prati quando l'hanno sostituito gli altri erano giocatori che completamente inadatti al calcio moderno sono giocatori che vanno piano non c'hanno passo oggi le mezzari abbiamo visto ieri sera parlavamo un secondo fa fuori onda di Casadei nell'Under 20 hanno un ritmo un passo un cambio di marcia tu hai giocato Prati ieri no? hai segnato anche è stato uno dei migliori che diventa essenziale nel calcio di oggi al piccolo trotto non giochi non giochi più quindi secondo me tutti i centrocampisti Spallini da Valtania a Zanellato a Murgia quelli su cui contavi è lo stesso passo giocatori monopasso Murgia non a caso il centrocampo ogni volta veniva in contropria saltato perché veniva saltato i difensori si trovavano sempre in difficoltà ci puoi mettere chi vuole anche qui torno un attimo indietro perché poi le cose andrebbero pensate diciamo al momento in cui succede adesso è più facile quando quest'estate Lupo fece la conferenza dopo il mercato estivo del quale si era abbastanza contenti tutti gli fu domandato se lui vedeva meglio una squadra fisicamente strutturata come sembrava dagli acquisti che aveva fatto o se non mancasse un po' di di spumante frizzante lui io preferisco una squadra fisicamente strutturata si è ceduto probabilmente in questo servivano un paio di giocatori che avessero un passo diverso ci vuole struttura ma voglio dire era dichiarata la scelta degli giocatori ma si pensava che alla fine ha investito il contigliano che fino a novembre era nell'under 18 perché c'è anche questo Mauro Maurizio per chiudere questo capitolo le vostre valutazioni diciamo anche proprio a livello numerico ovvero i voti per i tre allenatori i voti per i tre allenatori direi nessuno dei tre sufficiente Venturato non riusciva a prendere pochi gol abbiamo preso tantissimi con lui dei rossi insufficiente Oddo è arrivato per ultimo cercato a un certo punto era sembrato anche trovare Oddo forse quello che si potrebbe salvare Oddo purtroppo secondo me a cosenza nell'intervallo della partita l'unico errore che mi sento di dire perché me l'ho detto in quel momento l'ho pensato ma come stiamo dominando il campo e mi cambi modulo e infatti il secondo tempo è stato tutto il cosenza per il resto a Oddo non ho grossi appunti di rimuovere però quel secondo tempo era uno scontro diretto decisivo che se andiamo a vedere la classifica con gli altri punti al cosenza le mettiamo alla spalla la classifica poi lì c'è stata la svolta secondo me perché dopo quella partita ho visto anche qualche allenamento ho visto la squadra rassegnata cosa ti ho detto io dopo rassegnata a mia non era una stupid question era una domanda studiata e che cerchiavamo tutti di tenere ancora calco l'ambiente io dopo cosenza cosa ti ho detto ti ricordo mauro condivise ripeto ho visto anche gli allenamenti a rientro da cosenza sono andato a vedere quel paio di sedute a cui si hanno lasciato assistere e mi sono reso conto di vedere una squadra totalmente demotivata scollata Maurizio velocemente tutti e tre insufficienti guarda i risultati non puoi salvare nessuno in una squadra che finisce penultima in classifica con quello che ha speso e quei giocatori che ha preso con due attaccanti che hanno degli stipendi importanti e hanno avuto dei trascorsi importanti quindi arrivare penultimi a Benevento devono fare peggio di noi dovrei dare un giudizio peggiore tutti e tre insufficienti vi faccio una domanda io anche se Venturato è stato mandato via se st'ultimo in classifica se fosse venuto Oddo subito dopo Venturato per voi che siete due tecnici io sono convinto che Lupo volesse prendere Oddo fin dall'inizio anche io non di Tacopina perché non il presidente lì questioni magari c'è il contratto diamogli una chance però lì secondo me l'errore è stato lì se avessero preso Oddo dall'inizio poi non c'è mai la controprova però sicuramente dopo costruisci la squadra come vuoi te e Oddo è un allenatore comunque è un allenatore un allenatore e l'abbiamo visto cioè che comunque vuole giocatori che vadano cioè noi abbiamo visto quelle due volte quando entrò Rabbi vi ricordate che fece tre quattro accelerate noi avevamo due occhi così per dire ma cavolo finalmente uno che cambia passo quindi questo per dire che la squadra ma lo stesso Contigliano Riccardo ha più brio è più frissante rispetto ai suoi compagni di reparto ecco vedi che sui singoli secondo me Oddo si può dire solo che ha utilizzato poco Rabbi fruttando di più Rauti che per me ha fatto un campionato in cui non ha lasciato un assist un tiro in porto una parata del portiere sulla sua conclusione niente Rauti entrava in campo era come l'acqua non voglio prendermela con il ragazzo però penso che forse Rabbi magari con la sua velocità magari in partite esterne più che in casa negli spazi era un giocatore che forse si poteva sfruttare un pochino sicuro Rauti si è rivelato meno pronto per la B che Rabbi col tempo magari arriveranno entrambi però certo io l'avevo visto giocare diverse volte Rauti nel Pescara in C e mi aveva fatto una buonissima impressione partiva largo da destra e per la C la C la loro categoria cosa ci ha lasciato quest'anno Rabbi due gol e una traversa è di Rabbi anche la C la B non riescono a farlo non erano pronti per la B via adesso dobbiamo andare in pubblicità torniamo qui tra pochissimo e parleremo del futuro in casa sal visto che ci state mandando anche tantissimi messaggi proprio su questo argomento bentornati per quanto riguarda i risultati l'Empoli contro la Juve sta vincendo 3 a 0 mentre per quanto riguarda la Serie C vediamo Entella-Gubbio sono sul 3 a 0 Poggia-Audacio-Cerignola 0 a 0 Vicenza-Prosesto 2 a 0 Lecco-Ancona 0 a 1 e Pescara-Virtus-Verona 3 a 1 Alessandro ci stanno arrivando tanti messaggi proprio sul futuro di casa spalla ad esempio ne è arrivato uno che dice bisogna voltare pagina il passato è andato ora bisogna ripartire come vuole bisogna vedere come vuole ripartire il signor Tacopina in Serie C ricordiamoci che servono 3-4 giocatori tecnici nei ruoli chiave e una decina di cambaforte bravi a fare legna ciao a tutti forte a spalle e guardare avanti Riccardo che futuro pervedi partendo da quello societario anche alla luce delle dichiarazioni di Tacopina nel corso dell'ultima conferenza stampa interrogativo poi che rivolgiamo a tutti i nostri ospiti voi ne sapete sicuramente più di me che siete a contatto continuo io ho la sensazione che ci saranno delle difficoltà ma un pochino conoscendo Tacopina anche sul temperamento credo che non sia certo quello che si arrende o lascia tutti in mezzo a una strada credo che sia una persona che ha voglia di combattere che a cui la sconfitta non piace per niente quindi credo che almeno al prossimo anno tenterà di far di tutto per riportare in Serie B la spalla Mauro l'idea che mi sono fatto io sentendo ora anche le due conferenze stampa è questa che lui se fosse per lui abbia una voglia di rivincita di più eccezionale però adesso lui deve andare a sentire se il suo vecchio partner e quel partner che sembrava profilarsi in più non al posto D ma in più che non sappiamo chi sia all'orizzonte abbiano voglia in Serie C in questa situazione di di fare quello che avrebbero fatto se fossero rimasti in Serie B se ha questa disponibilità economica secondo me lui va avanti senza altro e va avanti per cercare di andare su non vedo l'ipotesi che non iscriva la spalla questo la escluderei anche io non c'è i soldi di esposito la rata di secca ammesso che ce l'abbiano non lo credo ma non lo credo che non lo farebbe neanche anche perché c'è una cosa che magari dobbiamo dire che se rubo un minuto Tacopina lo si può discutere sotto molti punti di vista ma Tacopina non può far bancarote Tacopina è uno dei principali avvocati penalisti degli Stati Uniti è il difensore di Trump non è un imprenditore non faccio nomi come qualcuno che abbiamo visto in precedenza che è Saltinari e Buonanotte avrebbe delle conseguenze serie anche nelle sue attività al suo paese insomma è uno che fallisce non credo che se lo possa permettere non lo farà secondo me la discriminante sta tra un campionato di C per tornare su subito ed eventualmente se gli investimenti non possono essere di quel livello un campionato di C meno sulla carta meno promettente che ugualmente comporterebbe comporterebbe ugualmente impegni pesanti certo però una sborsa un po' inferiore non vedo l'ipotesi che la SPA non venga scritta Maurizio mi sembra che una conferenza stampa che io ho seguito via internet lui abbia detto i soldi non sono un problema di leggere bene i soldi non sono un problema per fare la Serie C quella che ha fatto subito dopo il brutto gesto della tribuna questa frase sicuramente non mi ha scappato l'ho sentita io i soldi non sono un problema ha risposto uno ha detto i soldi per la Serie C non sono un problema quindi non vedo perché non debba rimanere e non vedo perché non debba tentare di fare una squadra importante servono 7-8 milioni per la Serie C vabbè per fare una squadra importante servono 7-8 milioni anche perché lui con tutto il suo entusiasmo che purtroppo ha portato più danni che la grandine si è messo contro tutta la gente con tutto questo entusiasmo gli si è rivoltato contro purtroppo perché tu l'entusiasmo ti sostiene dal momento che hai i risultati non hai i risultati sembra che prendi in giro la gente tutto questo entusiasmo dimostra che chiaramente lui non era venuto per retrocedere per fare una squadra per tentare di andare di starla sopra poi negli anni magari ad Arina e quindi lui ha detto bene Mauro è un combattente è un vincente non farà una squadra per stare a galleggiare in categoria dopo si può sbagliare un'altra volta però il merito è quello che hai detto a tutti posso dire una cosa di più le prime volte che ho conosciuto Tacopina quindi andiamo indietro quando acquistò la squadra due anni fa lui mi disse guarda io sinceramente non voglio più rendere altre squadre l'ha sparso la mia ultima squadra Mauro questo l'ha detto dove è andato ovunque ovunque Tacopina ha detto io l'amo non lo so io non l'ho sentito questo no abbiamo a Bologna ma tu lo sai lo sai lo fai dello show spesso Tacopina ha venduto fumo va bene fumo ok però questa frase questa frase trovami un giornale con questa frase a Bologna a Roma a Veneto Sandro se vuoi fare spettacolo fai il spettacolo va bene se vuoi fare spettacolo è una cosa se vuoi dire la verità no questa è la verità trovami un articolo di un giornale ci siamo fatti a bindolare ci siamo fatti a bindolare fai tu no lo faccio io cioè lui ma lui ha fatto il suo gioco ha fatto benissimo voglio portarvi in Serie A qui vedremo la spalla come l'Atalanta quando hai finito finito la mia ma io non mi non mi convincerò mai hai finito? non mi convincerò mai che Tacopina non mi convincerò mai che Tacopina sia così innamorato di Ferrala lo ha detto a Bologna lo ha detto scusa e lo ha detto a Venezia quando mi porti un articolo qua in trasmissione ti credo non riuscirai mai a portarlo detto questo non è questione di essere innamorati di Ferraro se mi lasci finire il ragionamento lui piace stare nel calcio nelle altre piazze è andato e si è mosso qui io ho una certa età non ho più voglia di fare qui sto benissimo per tutta una serie di motivi lasciami finire adesso dopo a fare il show e quindi dice io non avrò un'altra squadra dopo questa così ha detto io sono andato a cercare e non ho trovato nessun articolo nei suoi arrivi a Bologna dove abbia detto questa cosa che abbia secondo te abbindolato che abbia venduto fottuto quello che vuoi ma questa cosa qui se tu me la trovi ti do 100 euro e non me la troverai altrimenti se no ve li dai tu guarda se no ve li dai tu è come prendere un migliore se no ve li dai lui non avevo mai visto una discussione Malaguti sovranci ma no lui è un po' prevenuto diciamolo ecco lui è un po' io penso anche che sia un enorme differenza tra prima e oggi perché lasciare la SPAL oggi vuol dire rimetterci un sacco di quattrini Tacopino fino adesso dei grandi quattrini nel calcio non ce li ha mai rimessi perché ha sempre cercato di operare in maniera completamente diversa quello che era l'obiettivo anche a Ferrara a Bologna ci ha guadagnato a Venezia cioè da Rente ci ha guadagnato non credo che e qui quanto ha guadagnato qui non ci ha guadagnato niente ecco ci siamo no e quindi cambia la prospettiva allora è chiaro che da Ferrara non può andare via perché da Ferrara se vai via ci rimetti allora oggi oggi è una condizione in cui deve tentare deve tentare certo di rimettere tutto in carreggiata ok per rimettere tutto in carreggiata bisogna vincere il campionato di Serie C altrimenti primo anno spendi secondo spendi e il terzo spendi quindi è per questo che fa la fatica abbandonare Ferrara perché se l'avrebbe anche se l'ultima squadra forse se avesse trovato un investitore fosse andato in Serie A e se è trovato investitore forse sarebbe già da un'altra parte a dire le stesse cose e avrebbe già venduto la Sparta come ha fatto a Bologna e come ha fatto dall'altra parte anche perché c'è un'altra parte siccome ne hanno messi non credo che buttiamo via quelli chiudiamo la bottega non possono farlo non è il tipo cioè i soldi penso che qui a Ferrara come le altre piastre probabilmente per fare business ma anche qua è venuto per fare business voleva vendere la squadra in Serie A e qui solo che il business adesso va alla rovescia ma se il business è quello a me è un business che va bene il problema è che oggi devi rimettere in careggiata la squadra e non fai business altranno altranno spendi un sacco di soldi magari avessimo sempre avuto gente che avesse per idea unica idea del finanziare la Sparta il fatto di portarle su e rivendere magari era l'idea principale non riesco a spiegarmi perché Tacopina si prende da New York viene a Ferrara per fare calcio viene a Ferrara per fare calcio perché ha fatto una domanda è una brutta cosa o meglio pega uno che vuole gli appalti dal comune per fare lo stadio qual è meglio io non sto dicendo questo io sto dicendo che lui è venuto a Ferrara per salvare una società che era in difficoltà perché sappiamo i Colombani molto esplicitamente senza nascondere nulla non ce la facciamo più o siamo stanchi abbiamo dei nostri problemi Tacopina si è accollato perché sapeva qual era la situazione debitoria della Spal sapeva a quanto montavano gli impegni che avevano sottoscritti in quegli anni Colombarini con gli istituti bancari con le finanziarie sapeva quello che poteva essere l'impegno che la società aveva dovuto affrontare per gli ingaggi pesanti su cui contavano ancora tanti giocatori ma questo siamo d'accordo tutti però da qui a dirmi che Tacopina è venuto a Ferrara perché è innamorato di Ferrara perché qui può mettere su casa ho semplicemente detto che lui una volta qui per la sua età per la situazione in cui si trova mi ha detto questa sarà la mia ultima ho detto amo Ferrara no non l'ho detto sono innamorato della città questo è un ballo che stai andando fuori tu adesso io non l'ho detto io ho detto solo lui quest'anno lui a me aveva detto questo che sarebbe stata l'ultima squadra dopodiché devo dirti che ripeto è chiaro che un imprenditore sul territorio come sono stati i Colombarini magari anche altri prima di loro fuori viene della Spalma tanti per dire e quindi cerca di portare sulla città quando un imprenditore viene da fuori può avere diversi obiettivi nessuno viene per amore nessuna piastra non solo a Ferrara se l'obiettivo è avere gli appalti dal comune rifare lo stadio per fare del business è una cosa se l'obiettivo è cercare di portare la squadra dalla B alla A per rivendere e fare la plus valenza ma a me sembra una cosa magnifica lui se la vende e si fa la plus valenza e noi saremo in serie A il grande è che siamo in serie C adesso diventa più difficile perché non so come faccia a convincere qualcuno mi sembra che sia uno scandalo che uno vuole portare la sua staglia per vendere è la cosa giusta da fare ho detto che lui non è venuto qui perché è innamorato della spazio e di Ferrara lui è venuto qui per fare un business nessuno di noi questa volta gli sta andando male mentre gli è andata benissimo a Roma quello è il dramma ma nessuno di noi è questo discorso è l'ultima società non ne avrà un'altra se va via l'anno prossimo da qui e non ci fa dieci anni come magari speravo pensare di fare secondo me lascia lì hai capito breve break che con? non può scusate un attimo scusa un attimo Maurizio un secondo dopo quello che è successo con la curva è qua restare qua dieci anni non ci può stare Maurizio un attimo ci interrompiamo un attimo perché vi ricordiamo il caffè Clifi che dal 1961 entra nelle case degli italiani grazie al suo Roma unico inconfondibile dai Maurizio ho detto che non può stare qua dieci anni con quello che è successo con la curva lo siete già dimenticati tutti ma là in curva non dimenticano mica attenzione e noi parliamo di calcio parliamo di C parliamo di B e parliamo di A ma quelli là non se lo dimenticano mica io te lo dico ci siamo stati se anche all'inizio avesse avuto in mente io non lo so di stare qui dieci cinque quattro otto anni adesso non ce la può più fare credo che non vada a prendere un'altra squadra sì però adesso io credo che questa fattura con la curva sia da risanare assolutamente da tutte e due le parti perché fai fatica andare avanti in questa maniera secondo voi chi deve essere curva sta con la spalla Mauro ma sta contro di lui attenzione il primo passo lo deve fare Tocopino o lo deve farlo qui non è questione di primo passo qui è questione che secondo me ha un senso le due posizioni ma allo stesso tempo bisogna cercare un punto di incontro da tutte e due le parti non è che c'è uno che ha torto e l'altro che ha ragione c'è una situazione particolare nel calcio succedono ma succedono lo Tito a Roma fa il presidente da vent'anni là e c'è la curva contro da vent'anni dell'Aurentis a Napoli non credo che abbia la curva da sua parte quindi i presidenti che comunque gestiscono la società neanche Bandecchi quindi io credo che Riccardo non si corre il pericolo per fortuna di perdere i tifosi perché i tifosi erano in 150 anche a Pisa ma i tifosi ma no siamo noi la spalla quindi questi non li perderai mai ma i tifosi hanno le loro ragioni cioè comunque sia il gesto di Tocopina è un gesto un gesto sbagliatissimo sbagliatissimo perché verso la tua tifoseria non puoi avere un gesto che fa il giro del mondo fatto in questa maniera ok ma penso l'abbia riconosciuto anche lui se si è pentito anche lui di quello che ha fatto ok perché comunque la tifoseria Spallina è stata incommiabile però dall'altra parte mettiamoci un attimo a pensare se va via Tocopina chi viene qua perché bisogna pensare anche questo non viene nessuno non viene nessuno in Serie C con dei debiti con dei contratti Maurizio no cioè la realtà è questa qua l'imprenditore l'unico imprenditore che c'era a Ferrara i Colombarini si sono stancati giustamente dopo qualche anno sono stati in Serie A chi troviamo quindi dobbiamo cercare di risanare un po' la frattura secondo me andare avanti e sperare che Tocopina continui a investire in questo club per riportarlo almeno in Serie B il più breve possibile perché alla prima partita alla seconda di Serie C che vedremo tutti ci rendiamo conto dove siamo finiti bravissimi ecco perché Mauro è veramente la seconda partita perché lo spettacolo sarà una cosa impossibile da guardare anche solo a livello ambientale il livello è molto più basso rispetto all'ultima Serie C ma ogni anno un calo ma ogni anno è sufficiente anche dare uno sguardo alle strutture ci sono degli impianti che sono fattiscenti pensiamo al nostro Paolo Massa e pensiamo andare su certi campi di Serie C la parente a proposito di giovani per il gioco dei contributi che se vuoi ne parliamo la SPAL in teoria può prendere i paracadute in Serie C anche senza schierarli quindi si tratta di capire con la società che cosa vuole fare perché un'altra società che magari si incida più tempo e che non abbia il paracadute a prescindere infarcirebbe la squadra di giovani per avere i contributi la SPAL prenderà la stessa cifra sia che più o meno sia che che non li metta per quest'anno ancora e anche per altre due se non sbaglio e quindi Tocopini avrebbe mano libera volendo poter prendere qualche esperto è indipendente da utilizzare i giovani o sono se resti in C praticamente tu vieni ad incassare circa 1.800.000 euro che è una paracadute particolare però si fa giocare i giovani prende anche la valorizzazione no comprende gli anticipi su tutti quelli che possono essere i contributi per tre stagioni in C nel caso tu vedi in B ecco che arrivi ai contributi anche dei giovani cioè praticamente quei soldi lì ti coprono tre anni di giovani quindi teoricamente per tre anni ma sicuramente per il primo ti viene niente che tu faccia giocare degli esperti o dei giovani cioè ti viene che costano di più i contatti o degli esperti questo sia Maurizio sulla questione rapporto Tocopini a città rapporto Tocopini a città io l'ho sollevato adesso tu l'hai sollevato nelle altre trasmissioni quando è successo io credo che è un comunicato letto attentamente della curva non esiste più un rapporto presidente sono d'accordissimo con Riccardo che bisogna sanare ma non si riesce a sanare noi ci siamo nati là dentro quando andavamo a 14 anni 15, 16 perché adesso non è che ci nascondiamo io ci sono nato quella curva là quindi non è che andavo in tribuna centrale quando avevo 13 anni 12 anni eccetera qualche volta col papà ma quando mi davano mano libera andavo in curva cioè lì se questo purtroppo il gesto è pesantissimo era meglio una parola la parola poi volano no il gesto è pesante è difficile ricomporre come si fa un bel incontro poi vanno 5 rappresentanti ricompongono e gli altri 3500 per ricomporre e fare la squadra per vincere il campionato capito l'unica cosa che ti salva sono i risultati i risultati hanno sempre ricomposto le cose poi si può stare 10 anni come ha fatto Lottito o come Tabandecchi qui è 2-3 anni che continua a mettersi contro i tifosi e continua a rimanere a Terni ma non è un Ternano si è proposto come sindaco letto è andato un balottaglio è andato un balottaglio esatto facendo un passo indietro nella partita contro il Pisa passiamo a Lit Pared per vedere chi è stato il migliore in campo in collaborazione con Exera per il resto del Carlino per www.tellessenza.it per lo spallino.com il migliore in campo nella partita di venerdì è stato Rabbi mentre per la nuova Ferrara per Tellessenza e per lessenza.com è stato Celia troviamo così in classifica al primo posto Alfonso che chiude il campionato con 50 citazioni a seguire Esposito con 23 Nengolan con 21 Pratti con 19 Meccariello con 16 Maestro con 13 e Contigliano con 12 abbiamo parlato di futuro è il momento in cui tutti stiamo qui a chiederci chi prenderà in mano le sorti della spazza Coppina ha detto nei giorni scorsi in tutte conferenze a stampa non ci saranno più due, tre quattro responsabili o dirigenti dell'area tecnica ci sarà un unico plenipotenziario Riccardo sono stati fatti due nomi in questi giorni non sappiamo fino a che punto queste illazioni possono essere più o meno fondate tu sei uomo del mercato sei un operatore del mercato i nomi sono quelli di Mattia Collauto che ha lavorato con Tacopina a Venezia e poi però qui si parla di una coppia ecco quindi si serve un po' una contraddizione con Matteo Scala e Simone Spadafora Mattia Collauto conosco benissimo un ragazzo serissimo credo che vabbè conosce già Tacopina quindi si conoscono se il presidente decide di avere fiducia in lui credo che con Mattia si debba avere dei programmi abbastanza definiti e chiari ecco per quanto posso conoscere Collauto io da amico diciamo quindi è un ragazzo serio che vorrà programmi seri quindi al di là dei nomi secondo me qua prima dobbiamo parlare anche della programmazione di che tipo di squadra si vuole fare quali sono gli obiettivi qual è il budget perché il direttore sportivo si sceglierà anche in base a questo cioè non credo che e anche il direttore verrà in base a quelli che ci sono i programmi l'altra coppiata la conosco meno conosco sia Spadafora che Matteo Scala non ho rapporti di amicizia sinceramente come magari posso vedere con Mattia con l'auto mi lascia un pochino più perplesso così da fuori ecco sinceramente però non sono anche lì ripeto bisogna capire che programmazione cosa vuole fare il presidente e la società prima di capire se le persone poste in quel ruolo se ne hanno adatte o no dipende da quali sono gli obiettivi è proprio questo Mauro l'interrogativo che tutti ci poniamo in questi giorni quando conosceremo il nome del responsabile dell'area tecnica e dell'allenatore capiremo quelli che potranno essere i programmi della società perché come dice Riccardo ha fatto il nome di Colauto mi pare sia trasparso chiaramente dalle parole di Riccardo che Colauto non accetterebbe un programma ridimensionato o di minima ci si fa un'idea questo è mica penso io Scala è dichiaratamente dichiarato da lui stesso è un figlioccio di Giuntoli che è il direttore sportivo del momento perché ha vinto la scuola non ha mai avuto responsabilità e pare va dalla Juventus però in prima persona se non sbaglio ha avuto responsabilità solo a Bari però Giuntoli l'ha portato con sé a Napoli ma come team manager quindi di fatto senza un ruolo decisionale quindi non so adesso io però ripeto non so che fondamento abbiano sono due contatti magari ce ne sono altri 14 se fosse questa la scelta significherebbe mettersi in mano a Giuntoli probabilmente perché ritengo che alle spalle di Scala che ancora non ha un'esperienza sufficiente ci sarebbe Giuntoli che adesso andrà a pare alla Juventus dicono probabilmente la Napoli questa sembra già fatta no sembra avviato però anche confusione anche lì dipende da Allegri secondo me però la ragione di Cardo insomma fai il budget e scegli il tuo uomo non è che scegli l'uomo e poi dopo fai il budget l'unica cosa che ti dico è questa guardiamo dove è stato anche Matteo Scala a Bari perché ci sono i De Laurentiis ed è durato poco le piazze che ha fatto a Bari è stato in serie D era in serie D a Bari ah era in D neanche in C in C è stato qualche mese ecco quindi a Bari in D cioè perché non era C poi è stato a Carpi cioè in dimensioni e in contesti è stato anche alla Fermana ecco ma sì ma contesti che non c'entrano niente con Ferrara cioè con la Spal cioè dopo non so fino a che punto si possa gestire la Spal come si gestisce il Carpi dove c'hai 50 tifosi e dove puoi fare quello che vuoi anche a distanza non lo so mi sembra una qualcosa che faccio fatica un pochino a comprendere conoscendo questa realtà conoscendo la Spal conoscendo la storia conoscendo la tradizione conoscendo la tifoseria conoscendo cosa pretende la città di essere così un punto di appoggio per i giocatori che vengono fuori dal Napoli o da qualche altro club ma ricordiamo che quest'anno invece era Scala era Genova ma non aveva funzioni tecniche non era lui che tirava le fila Maurizio la tua opinione su questi due nomi questi nomi che se non sito conosco molto bene uno solo Michele Spadafora e basta come competente ricercatore di talenti e di giocatori non come direttore di squadra cioè l'uno che va a vedere anche questo compito non è uno che può non ha mai gestito club che mi risulti a me non so se ultimamente l'ipotesi che era girata che ho letto anche oggi non conosco la Scala con l'auto quindi non voglio parlare esatto cioè sarebbe un team l'unico è Michele che l'ho conosciuto tanti anni fa e so che va a vedere partite e addirittura in giro per il mondo per farla a 610 mi sembra un po' strano però però io credo in assoluto al di là dei nomi ecco lo siamo un attimo perché poi magari ce ne sono altri che non sappiamo al di là dei nomi credo che quello che dice sono abbastanza con quello che dice Riccardo Ferrara ha bisogno di un direttore sportivo capace tutto suo perché noi abbiamo già provato in passato una soluzione tipo quella che potrebbe essere avere scale spadafora congiuntoli alle spalle abbiamo già avuto in passato qualche esperienza di direttore sportivi se ricordi che erano dico faceva Borea ecco te lo ricordi bene etero diretti diciamo non è andata molto bene l'anno quello della Vigui Venerocciocci Nappi eccetera veramente questo non significa adesso giunto il nome di grido magari ti dà dei giocatori formidabili però penso che la SPAL meriti un direttore sportivo tutto 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 suo che per il 100% pensi alla SPAL e alle sue problematiche ripeto poi chiaramente se devi scegliere una figura che abbia alle spalle un nome importante il nome di grido più di giunto di quest'anno non esiste ha vinto passiamo ora al corner di poltro poi parleremo successivamente ancora di futuro perché abbiamo tante cose da affrontare adesso andiamo a sentire anche Andrea Poltronieri ciao Sandro ciao ragazzi ultima puntata dico la verità mi ferma la gente è un po' così per salutarmi oppure per dirmi cose e anche io non a me che sono l'unico l'ultimo al mondo che lo può sapere cosa succede se Taccopina rimane cosa fa la SPAL cosa non lo fa non lo sappiamo siamo in balia del vento siamo in balia del mare ecco e quindi a oggi a lunedì non sappiamo assolutamente nulla speriamo che la situazione un po' da una parte o dall'altra si possa risolvere perché chi nella vita non ha bisogno di certezze abbiamo tutti bisogno di certezze no? appena c'è un momento oddio e adesso ecco questo siamo noi siamo messi così cioè vedere quel quadro lì che secondo me è bello quindi il mio ultimo intervento per quest'anno poi Sandro poi il prossimo anno vediamo magari se vogliamo stare insieme ancora io sarei ben felice però è andata così e siamo andati a vincere a Pisa che doveva lottare che doveva lottare per il playoff Pisa ha perso e abbiamo vinto noi siamo andati a rovinargli i playoff noi già retrocessi perché ah ho letto di tutto senza pressioni senza cose capito? senza pressioni poi vabbè con i se e con i ma non si va da nessuna parte ma quando io dissi spero che a fine campionato questi due punti non ci pesino e invece hanno pesato noi con il VAR possiamo andare a letto che ci sia uno che ci sia l'altro stai tranquillo che se c'è un rigore ce l'annullano stai tranquillo che se c'è un gol ce lo annullano stai tranquillo che non va bene questo io non lo so perché abbiamo uno stadio che è una meraviglia cioè non lo so già in Serie B secondo me è un stadio così non lo trovi dove andremo? dove andremo adesso? dove andremo? io non lo so però ragazzi come sempre restiamo uniti sentiamo le informazioni sentiamo cosa ci succede ringrazio tutti quelli che seguono il corner di Poltro ringrazio Tessandro tutti quelli nello studio che ci sono veramente anche degli amici che saluto saluto gli amici a casa e ci rivedremo in giro ci rivedremo così forse speriamo con qualche notizia da Ferrara è tutto ciao ragazzi un saluto ad Andrea Poltronieri che ringraziamo per averci mandato tutte le sue analisi durante questo campionato noi adesso andiamo in pubblicità ci vediamo qui tra pochissimo bentornati Alessandro ci chiedono per quanto riguarda i mister per i contratti del prossimo anno no dunque la situazione contrattuale è questa venturato e rischiadenza quindi non ci sono problemi Oddo aveva un contratto che prevedeva l'eventuale conferma in casa di salvezza mentre è ancora sotto contratto De Rossi con tutto il suo staff questa è la situazione a proposito vorrei dare un'occhiata proprio anche perché andiamo a guardare al futuro sulla situazione contrattuale anche grazie alla tabella che è stata predisposta dalla nostra regia abbiamo dato uno sguardo ai giocatori che sono legati alla spalla almeno per la prossima stagione e lo abbiamo fatto ruolo per ruolo quindi come portieri ci sono Albat Abati Alfonso Tiam Tiam Calalco anche se oggi era squalificato ha rimontato il Foggia con il Cerignola e quindi dovrebbe aver passato il turno i difensori sono Arena Celia Dickman Fiordaliso Meccariello Peda Saiani e Tripaldelli quindi abbiamo tre portieri otto difensori otto centrocampisti che sono Contigliano Maisco Murgia Paravicini Prati Puletto Tungio Vezzanellato abbiamo inserito anche i giovani che potrebbero essere utili per la Serie C quindi il reparto più sguarnito è quello degli attaccanti dove ci sono Fettazidis Lamantia Rabia mettiamoci pure Rao hai contratto ho contratto a Fettazidis ho contratto a Fettazidis ancora per una stagione perché chiaramente è arrivato a gennaio è difficile che un giocatore dico bene Riccardo accetti un contratto per sei mesi ma non so ecco un po' la vostra opinione in merito secondo voi chi di questi giocatori potrebbe essere utile per affrontare il campionato di Serie C Meccaviello sicuramente Maestro se ha voglia di rimanere ecco cioè il discorso è legato non solo a chi potrebbe essere utile anche secondo voi chi potrebbe accettare secondo me rimane Contigliano e Lamantia bisogna che vada via però bisogna trovare una squadra liquidarlo e quant'altro c'è un bel esborso economico da fare Mauro la prima cosa da vedere è sugli stipendi quelli che sono compatibili e qui eventualmente le volesse spalmare per incidere di meno ma carriera senza altro bisogna vedere però quanto prende se è disponibile se non ha altre richieste se ha voglia di chiudere la carriera qui facendo contratto più lungo e spalmato e sui sarebbe riproponibile e poi mi verrebbe da dire i giovani anche se Prati ritengo che anche con la vetrina che ha avuto ieri non lo vedremo più Contigliano può rimanere Contigliano sì probabilmente in Serie C anche Rabi può rimanere poi sono scomparsa la tabella per cui non le putti davanti forse il Serie C anche Arena dà qualcosa da dire di più senza altro Peda giovane maestro non credo mai che rimarrà qui se sarà qualcuno che lo voglia altrimenti magari non vedo non vedo molti altri giocatori penso che la mattia qui non possa stare per 900.000 qualcuno che lo vorrà in Serie B per rilanciarlo mi auguro che ci sia lo voleva la regina a gennaio vediamo Maurizio secondo te mi concordo su me cariello perché andarne a cercare un altro che deve essere l'ascia portante della difesa a me sta bene il portiere addirittura ce ne sono tre due penso che diano garanzie sia a Tiam sia a Tiam che a Forso quindi però secondo me la mia tutta dovremmo essere io cambierò anche il portiere poi vedremo se Tiam qua ormai è già passato se fosse il mio parere spassionato e ricambierei tutti tranne uno il mio parere spassionato chi retrocedeva a casa questa è una regola non scritta ma siccome non si riesce non si riesce bisogna tenere tutti i giovani che hanno dimostrato comunque di voler fare e quindi i giovani ferraresi prima di tutto Rabbi sono d'accordo Rauti Rauti non c'è lì perché non è della Spal no Rauti quindi non è della Spal e benissimo anche Arena per secondo me anche Arena deve rimanere a fare il campionato che in cui ha fatto tanto bene di sua competenza e dopo gli altri bisogna che ci abbiamo a Murgia un'altra volta ci abbiamo vita natural durante ormai c'è Murgia in mezzo al la Mantia penso è una punta le punte trovano sempre all'ultimo giorno di mercato all'ultimo minuto dopo che sono state giocate tre amichevoli due partite in Coppa Italia le punte vanno via perché eppure prendi pure i soldi perché la Mantia non ha uno stipendio compatibile con in più ha fatto anche male in più credo che lui se ne voglia andare non voglia farla c'è Fes Fazidis non l'abbiamo io praticamente non l'ho mai visto ma è un giocatore che ha giocato in Asia ha avuto la vetrina del Genova l'Olimpiakos la nazionale greca non credo voglia rivenere a Ferrara credo che magari se ne torni nei paesi arabi quindi è un altro bel vantaggio che porta via un altro bello stipendio e la Mantia è uguale porta il nostro stipendio quindi c'è da rifare l'attacco non terei sicuramente zanellato assolutamente perché non ha passo e non ce l'hai in B ce l'hai neanche in C e Murcia l'abbiamo detto ma purtroppo è tre anni che diciamo che deve cambiare aria ma non è possibile fargli cambiare aria i giovani poi io il problema sarebbero quei giocatori lì che non hanno un mercato che hanno contratto a me non piacciono né Celia né Tripaldelli però questa è un'impressione mia posso piacere Celia addirittura ha fatto quattro gol però la Serie C la fanno la Serie C la fanno sì la Serie C la fanno ma credo che Tripaldelli voglia andare in Serie A come esposito come sua mentalità perché anche lui è un po' è un po' molto su se stesso non la pena nessuno ama molto se stesso e crede molto in se stesso e quindi già è poco la B per lui e quindi penso non voglia rimanere qui c'è Mauro anche un altro problema legato ai contratti pesanti che hanno parametrandoli anche a quelli che sono i valori medi della categoria molti di questi giocatori su tutti la Mantia lo stesso Murgia lo stesso Zanellato lo facevamo perché è questo che impedirà a molti di restare però se nessuno viene a prendere che cosa fai perché sono convinto anch'io che le punte puoi trovare ma Murgia dopo tre anni così chi se lo viene a prendere Murgia Zanellato lo sa però anche lì insomma ci sono alcuni giocatori che sono veramente difficili da piazzare e qui ci sarà un problema economico per la società che dovrà o concorrere agli stipendi della prossima stagione oppure trovare un accordo una transazione certamente ma al mici voglio fare una domanda voi che siete più noi l'abbiamo visto pochissimo ho preso Zanellato in un anno e mezzo che qui aveva giocato tre minuti in un anno e mezzo è improponibile anche in C domanda ma chiedo solo perché non lo conosciamo chi l'ha visto al mici la rosa la rosa la rosa ci sta però fare la riserva ma sì ma dobbiamo guardare un pochino perché è un giocatore che non si conosce alla spina dorsale della squadra lì infatti bisogna prendere portiere difensore regista e centravanti quella è la ricetta sempre valida diciamo che tutto sommato hai unicamente Meccariello nella spina dorsale della squadra in serie C che ti possa dare sicurezza e garanzie totali credo anch'io credo anch'io c'è un discorso legato all'allenatore perché anche anche in questo caso nel momento in cui verrà svelato il successore di Oddo perché abbia qualche piccola possibilità ma la vedo molto ridotta Oddo di vedersi confermato nel momento in cui sapremo a chi verrà affidata la guida della squadra capiremo quelli che sono i microgrammi certo capiremo anche quale potrebbe essere il tipo di allenatore che verrà preso oggi è impossibile fare qualunque tipo di ragionamento secondo me perché anche l'allenatore verrà in base a quelli che sono i programmi della squadra il nome il nome non viene qua per fare un giro Ferrara se non gli fai la squadra per cercare di vincere allora vai su un giovane oppure su uno che ha bisogno di un attimo di rimettersi in corsa qui sono usciti alcuni nomi Mauro sentiamoli non so fino a che punto raggiungibili se non hai il direttore cosa hai fatto? quello di Inzaghi e quello di Tessere Tessere sarebbe una garanzia ma non credo non credo proprio a me piace poco non credo che Tessere verrà risparmi bisogna aspettare almeno il direttore per avere le idee un po' più chiare a me Tessere non è che mi entusiasme voi andreste su un giovane emergente oppure su un allenatore che conosce bene la categoria che ha già vinto in categoria io Tessere non mi piace tanto ecco se devo essere fare un esprimere la mia opinione è un allenatore che con la squadra che viveva quest'anno ha fatto non benissimo a mio parere perché comunque davanti il Modena non era male poi aveva qualche altra situazione si però l'allenatore lo guardo anche in base ai risultati che ha ottenuto con la squadra che aveva quest'anno mi sembra io sono più per un giovane sono più per un allenatore con una metodologia una mentalità calcistica diversa da quella di Tessere ormai il calcio cambia talmente velocemente che bisogna essere sempre al passo in Zaghi la regina mi era piaciuta la prima giornata poi secondo me è molto perso anche lui un po' lungo il cammino però mi piace più in Zaghi che Tessere io ho detto io ho fatto un nome l'ho fatto con te io andrei a prendere Scurto immediatamente per come per il tipo di calcio che piace a me oggi qua aveva fatto con la prima vera molto bene a Torino sta facendo stra bene è primo primo è uno che il calcio moderno lo sa fare gli devi comprare se gli dai zanellato e murgia è meglio non prendere Scurto se gli dai dei giocatori che hanno gamba Scurto è un ottimo allenatore io penso semplicemente che Tessere in Zaghi questi qui non credo che siano allenatori che vengano in Serie C insomma non penso ci vorrebbe magari sia un direttore con un programma importante anche nel tempo mi sembra un po' mi sembra un po' difficile anche perché la Spala in questo momento è un po' in stallo sta aspettando che si chiariscano alcune situazioni per cui non lo so quando sarà possibile arrivare a una scelta ecco dipende anche della tempistica per qualcuno di questi no inizio direttore sportivo deve scegliere l'allenatore e quindi una che conosce in cui siano in simbiosi se no rischiamo di fare la stessa fine di questo inizio dove Fabio Lupo si è dovuto tenere venturato perché aveva il contratto ci ha pure parlato a me quando è capitata questa cosa l'ho sempre dovuto cambiare pur tenendolo ho sempre detto il presidente ci ha incontrato direttore teniamo ci parlo mi sembra anche pure bravo e poi dopo l'ottava decima giornata ho dovuto cambiarlo tutte e due le volte che mi è capitato perché poi all'inizio sai quando tu ti siedi ci sediamo io e te siamo sempre d'accordo perché dobbiamo mantenere lo stipendio che abbiamo dobbiamo andare d'accordo poi dopo quando comincia il calcio giocato sul campo non andiamo più d'accordo quindi io penso che lo deve se lo deve scegliere il direttore una persona con la quale ha lavorato che conosce tutto di tutto io per quanto sono d'accordo anche con Cervellati un bel giovane da una primavera o uno che ha già vinto che però bisogna conoscere attenzione bisogna conoscere perché io io ne conosco uno solo si chiama Colavito e Rancona l'hanno pure esonerato quindi però quello lo conosco so com'è di carattere so com'era di idee ma sono passati più di dieci anni quindi sono sentito un qualche telefono che non ha nessunissima esperienza di squadra adulta vedrebbe bene uno che venga da una primavera senza mai aver allenato io ci penserei dieci volte anch'io ci starei attento un attimo perché abbiamo fatto qualche esperienza per il discorso della piazza guarda che io sono io sono al di là di quello che può uscire sono del parere che per fare un campionato là oggi giustamente la procesta è andata fuori in Vicenza grandi nomi ha passato il turno alla fine e quindi la procesta era là e non mi sembra che gli altri avessero grandi nomi ha parlato bene Sandro anche tu avete parlato di spina dorsale quando la spina dorsale è formata da giocatori veri di grande personalità e nella spina dorsale c'è quello signore là davanti che ne fa dai 15 in su perché sono pochi meno di 15 dai 15 in su perché uno della spina dorsale deve essere quello là davanti gli altri possono essere tutti bravi giocatori giovani che hanno già fatto anche un campionato o due di C di gamba di corsa e di voglia perché questa è la serie C non c'è bisogno di fare delle pagate di gamba di corsa e di voglia di fare delle ipersquadre quello che hai preso Piero Bon pari cancellato ti ricordi chi era il difensore centrale era già a metà dell'opera anche se guardiamo comunque la Reggiano aveva tanti giocatori esperti il Catanzaro aveva tanti giocatori esperti Catanzaro aveva una squadra di B allora fai una squadra di B è un'altra politica che farà non c'è a fare trovare il giusto mix ma non puoi prescindere il Catanzaro sai quanto hanno speso per fare una squadra ma non puoi farlo cioè non lo farà mai te copina la roba così secondo me di spendere 10-15 milioni il Catanzaro ha speso 10 milioni ma no ma stiamo scherzando ma qui non si fa allora qui devi avere se fai una scelta su un giovane per me devi avere la società che appoggia che ti tutela perché Gorini dove aveva allenato Gorini però lì è tutelato sbagli tre partite e ti tutela e ogni anno salvi la squadra cioè devi avere un appoggio della società cioè devi cioè non è che alla prima sconfitta devi massacrare immediatamente uno né la società né la stampa né anche i tifosi ma ci sono più allenatori giovani bravi che tanti matusalemme che ancora allenano il famoso discorso però che facciamo sempre quando diciamo la piazza significa anche questo significa che se tu perdi tre partite in serie C ti cacciano sei già in viso a tutti ma le puoi perdere con te sempre no no certo no perché non è che non perdiamo le partite sono degli esempi l'unico timore che si aveva suventurato era quello della piazza ad esempio poi se diciamoci una cosa tutte le esperienze che noi abbiamo avuto recenti anche meno recenti con Cittadella tutti i giocatori e i giocatori che abbiamo avuto della Cittadella cosa ha fatto nessuno scusate se vi interrompo ho fatto un esempio dell'allenatore per dire all'allenatore giovane che non avesse esperienze ma ce ne sono perché Dionisi l'hanno preso per così cioè comunque cioè devi intravedere le qualità dell'allenatore cioè uno per me è molto bravo è quello che è allenato quest'anno e devi anche tutelarlo devi anche tutelarlo poi devi tutelarlo Dossena per me è allenatore da prendere Riccardo scusami è un progetto facciamo il punto definitivo Pescara ha fatto con molti ragazzini poi ha mandato via allenatore ne ha chiamato uno che è un po' più accontriano più di noi però mi sembra che continui a vincere dove? Cesema voglio dire c'è molti ragazzi 2, 3, 4, 5 20 ragazzi c'è un progetto che dico io Maurizio scusa intanto facciamo il punto definitivo sulle squadre che hanno passato il turno dei play off che sono Entella Foggia Vicenza Lecco e Pescara queste poi andranno a confrontarsi nel prossimo turno con le seconde che sono Pordenone Cesena e Crotone vorrei parlare anche del settore giovanile però prima abbiamo un'intervista Oggi pomeriggio abbiamo sentito Davide Frattini organizzatore del Trofeo della Solidarietà andiamo a sentire le sue parole Davide Frattini possiamo dire anche se oggi la maggiorità ha 18 anni con la 21esima edizione il Trofeo della Solidarietà diventa maggiore Sì direi di sì sono 21 anni ci siamo ancora quest'anno ritorniamo a Corlo sarà un bel calcio tre serate di calcio bello di ottimo livello prime due sere con calcio maschile l'ultima sera dedicata al calcio femminile come sempre noi sosteniamo oltre 15 associazioni benefiche onus del territorio e quest'anno però in primis abbiamo pensato ai nostri fratelli romagnoli emiliani romagnoli che appunto sono alluvionati quindi il nostro primo pensiero va loro alle vittime e alle famiglie a tutti loro che sono in questa grande difficoltà quindi daremo primo sostegno a loro e poi sosteremo tutte le altre 15 nostre associazioni a questa solidarietà partecipano anche voglio dire soprattutto i giocatori sì c'è un ottimo livello ottimo ottimo livello e quindi ci saranno delle belle giocate ci saranno qualche gioco qualche lotteria c'è uno stand gastronomico dove si può mangiare cenare tutto ricavato viene devoluto interamente ci sono anche tante aziende che danno il loro contributo il loro apporto infatti devo ringraziarle sono molte che ovviamente tutti gli anni ci sostengono non dicono mai di no e credono in questo progetto da tanto tempo e credono appunto nella voglia di dare una mano a chi veramente è bisognoso possiamo dire 21 anni e non sentirli beh oddio cominciamo ci proviamo ci proviamo è sempre più difficile però insomma quando ci si crede in una cosa e quando si sente credo sia doveroso andare avanti finché finché è possibile finché ne abbiamo la forza e la salute appuntamento quindi da giovedì a sabato sì esatto giovedì sera dalle 20 e 30 serata maschile con due partite di calcio di ottimo livello venerdì con le finali primo secondo posto terzo e quarto e sabato avremo il calcio femminile è un triangolare di femminile molto divertente in tutto sarà insieme ai nostri ragazzi diversamente abili a tutte le nostre associazioni con i cani salvataggio sarà un tre belle serate saranno ok di vedervi in tanti nel prossimo fine settimana a Corlo intanto vorrei tranquillizzare tutti i nostri amici o nemici io e Mauro siamo rimasti amici come lo siamo ormai da oltre centina anni tranquillizzare sul fatto che noi non giochiamo più perché anche questo abbiamo fatto nella prima edizione del torneo di Frattini di queste discussioni che con Maurizio ma un po' meno con Riccardo perché lui era dall'altra parte ne abbiamo fatte centinaia ma ci siamo accapigliati ma tutto poi finiva lì magari davanti anche un bel piatto di spaghetti della Fiorentina ci sono invece vista la situazione invece si complica un po' anche la situazione anche nel settore giovanile siete d'accordo? si complica molto si complica molto perché quello che succederà accadrà dopo tanti investimenti c'è un bel punto interrogativo al di là della gestione economica di mantenere tanti ragazzi in un convitto e questa è una parte non so fino a che punto si potrà ancora percorrere questa strada il problema più grande è che retrocedendo in Serie C tutte le squadre giovanili dall'Ander 18 credo neanche si debba fare l'Ander 17 e 16 e 15 non si fa l'Ander 18 non si fa l'Ander 17 e 16 e 15 non andranno più a giocare contro Juve Milan Inter e queste squadre andranno a giocare contro le squadre di Serie C quindi bisogna vedere fino a che punto tutti questi ragazzi che comunque si sono abituati a certi palcoscenici a un certo livello si confrontano con certi giocatori e abbiamo poi il piacere di rimanere lontano da casa per giocare con tutto il rispetto contro il Gubbio e quindi cambia completamente ogni tipo di di prospettiva purtroppo questo è un danno grande a mio parere che comporta l'etrocessione e quindi ci sarà da rivalutare un sacco di cose perché comunque il budget è un budget molto importante e non so fino a che punto sia in grado di mantenerlo non so se l'hai sottolineato in precedenza il campionato di primavera 2 però quello si mantiene perché ci sono le retrocessioni cioè rimani in primavera 2 ma primavera 2 è già un livello molto inferiore primavera 1 quindi è già un campionato di livello abbastanza basso secondo me per quello che riguarda i giovani e quindi il campionato che spicca è primavera 1 quindi c'è un ridimensionamento tanti ragazzi in quella fascia che passa dall'anno 17 a primavera che primavera il campionato dell'anno 18 non sai dove sistemarli c'è da veramente da mettersi al tavolino rivoluzionare tutto oltretutto Maurizio anche Catellani non farà più parte dello staff ci attende solo l'ufficialità ma da Modena ci dicono già che è passato in giallo-blu vedremo anche in questo caso vedremo anche in questo caso quali saranno le decisioni di Giotta Coppina Mauro potrebbe esserci anche un prodotto locale così come noi consideriamo Chieco Conti che sta lavorando bene ci ha fatto ulteriore esperienza in questi anni confesso che io sto ascoltando i due direttori su questo perché hanno molte più conoscenze di me imparo da loro su questo argomento puoi parlare loro il calcio del settore giovanile non ha una competenza ha detto bene Riccardo ci sono l'economia cioè sono finiti i tempi del Cesene dell'Empoli in serie C che spendevano di più a fare il settore giovanile che a fare la prima squadra ma perché non c'erano neanche i campionati giocavi contro tutti a C non cambiava niente adesso devi limitare i posti letto per forza perché è un costo enorme tutti questi stranieri chissà se hanno voglia di giocare e quindi però questo potrebbe essere la volta che la SPAL si rimette con la sua provincia con i suoi giocatori delle province limitrofe con i ragazzi più vicini a Ferrara di dare molto più spazio loro invece che a giocatori che vengono da lontano perché quelli che vengono da lontano tu mi insegni che devono essere più bravi di quelli che sono qua perché sono inutili andare a spendere dei soldi è chiaro che anche sul territorio c'è la concorrenza del Bologna c'è la concorrenza del Modena c'è la concorrenza del Sassuolo cioè di squadre che possono accedere a questi campionati perché sono in categoria la Cia Padova con un grande settore giovanile e ho fatto i responsabili del settore giovanile e sai che di concorrenti avevo solamente Milan l'Inter e Juventus e basta e dopo le squadre di Serie A ma con le altre di Cilimi tu devi essere più bravo e convincerli a portarli qua poi se gli danno dei soldi non lo so ma oggi oggi la SPAL c'ha un richiamo eccezionale è chiaro che il Bologna c'è la giochi con il Bologna non puoi mica prendere un giocatore a favore della Vena come è già successo c'è il vantaggio delle strutture a partire dal convito probabilmente ci sarà qualche ridimensionamento proprio perché ci saranno meno ragazzi che arriveranno in particolar modo all'estero però per me il convito soprattutto in Serie C è un decoroso ambiente in cui può fare i ritiri casalinghi anche la prima squadra le strutture superano la Serie C se tu vai in altre strutture per chiudere abbiamo l'esempio però di Contigliano che può trainare perché comunque il ragazzo di qua per la prima volta di nuovo dopo tanto tempo c'è il ragazzo di Ferrara con anche dei parenti che hanno fatto calcio veramente a livello di quindi questo deve questo deve essere la Serie C deve essere una mira per questi ragazzi perché se la Serie A non può esserla la C lo deve diventare assolutamente ci puoi arrivare molto molto più facilmente noi vi salutiamo vi ringraziamo per averci seguito ringraziamo i nostri ospiti in studio questa sera Riccardo Cervellati Mauro Malaguti e Maurizio Natali per essere stati qui con noi soprattutto ringraziamo chi ci ha sopportato per tutta questa annata e per tutti questi anni ringraziamo i nostri tecnici perché senza di loro non avremo mai avuto la possibilità di cercare di continuare a seguire le vicende della SPAL con tanta amarezza perché ne abbiamo tanta dentro sinceramente vi salutiamo e vi auguriamo buone vacanze poi che ne sarà sarà speriamo in bene per tutti buona estate buona estate grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.